Non è una partita, è una corsa podistica di biciclette, vediamo lui, il nostro Miguel Indurain di H2, ciao! Guardiamo il primo piano del nostro Beddumé che lascia tutto, Mussomeli, Chiara Montana per seguire la squadra in trasferta, un applauso, ecco l'applauso per Beddumé! Allora, che partita hai visto? Come ti è sembrato il Real Biscari? Benino ha giocato, però l'altra squadra ha giocato più forte avendo 3-1. Quindi diciamo che la partita è stata corretta, il risultato è meritato secondo te? Sì! E il Real Biscari che campionato farà secondo la tua opinione? Per me non lo so ancora. È il migliore in campo della tua squadra? È stato quel centrale campista Ivan Mustafà? No, Ivan, Ivan Ah, Ivan, Ivan, va bene, grazie, complimenti Prego, arrivederci